Dall'antica alleanza al dono che Gesù fa di sé sulla croce, il battito del cuore misericordioso del Signore ritma l'intera storia della salvezza. Questo è il tempo in cui la Chiesa mostra ad un'umanità ferita il suo volto materno. Sono trascorsi poco più di tre mesi dall'inizio dell'anno santo della misericordia e già milioni di pellegrini hanno voluto partecipare ai grandi eventi giubilari previsti a Roma. A pochi metri dalla Basilica Vaticana la Chiesa di Santo Spirito in Sassia continua a raccogliere quei fedeli desiderosi di approfondire i molteplici aspetti del mistero della misericordia divina, grazie ad un ciclo di catechesi promosso sotto il patrocinio del Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione. Al suo presidente Monsignor Rino Fisichella, uno dei relatori di questi incontri, abbiamo chiesto quanto sia importante mostrare l'agire misericordioso di Dio in tutte le sue declinazioni per proseguire con una più profonda consapevolezza di questo mistero il cammino giubilare. La misericordia non è soltanto un termine, la misericordia sono tanti atteggiamenti, tanti comportamenti, è tutto l'agire di Dio nei nostri confronti e quindi la possibilità di vederli spezzettati ma uniti insieme ci dà l'opportunità di avere una visione sulla nostra fede e sull'essenza della nostra fede che diventa ancora una volta una provocazione a pensare e a farci diventare dei testimoni. I luoghi sacri della capitale accolgono pellegrini provenienti da tutto il mondo, giunti per contemplare insieme con entusiasmo il volto di questo giubileo straordinario che continua a svelarsi poco a poco grazie ai numerosi eventi che ne arricchiscono il calendario. In cento giorni avere superato già i 3 milioni di presenze soltanto qui alla Porta Santa di San Pietro è una cifra estremamente significativa, non sono i numeri quello che danno il valore del giubileo ma hanno una valenza certamente e aver superato 3 milioni in così poco tempo ci fa comprendere questo grande desiderio da parte dei nostri fedeli di giungere a Roma alla tomba di Pietro e di non vivere il giubileo soltanto nelle proprie diocesi ma di viverlo anche insieme con Papa Francesco. Fornendo assistenza e aiuto il centro di accoglienza dei pellegrini su via della conciliazione prosegue la sua attività dando la possibilità a tutti di trascorrere questo tempo e i suoi momenti più significativi come un'autentica esperienza ecclesiale. Partecipare a un evento, partecipare al pellegrinaggio ci fa sapere che il pellegrinaggio non termina a Roma, il pellegrinaggio termina quando si ritorna nella propria comunità, quando si ritorna a casa e questo significa che il pellegrinaggio ci rafforza ma a ritornare nelle nostre comunità ci dà la responsabilità di essere misericordiosi come il Padre. In altre parole il giubileo della misericordia non soltanto ci fa toccare con mano la misericordia di dio nei nostri confronti ma ci chiama, ci chiede di diventare noi stessi a nostra volta testimoni e operatori di misericordia. Grazie a tutti.